Sono sempre più contrastanti i dati relativi all'economia italiana, piccoli segnali di ripresa che si scontrano con rallentamenti del PIL e calo delle assunzioni a tempo indeterminato. Cifre spesso contrastanti che parlano di una ripresa che però rimane troppo debole rispetto agli interventi strutturali tentati dal governo. Secondo Matteo Colaninno, parlamentare della Commissione Economia e Finanze della Camera, però il peggio è passato e bisogna proseguire sulla strada avviata. C'è un contesto italiano e internazionale molto difficile, veniamo da anni in cui abbiamo perso come paese 25 punti di produzione industriale e 10 punti di PIL, quindi sono numeri molto pesanti che derivano da una crisi non solo italiana ma mondiale, di qui si vuole ripartire, l'impegno del governo è noto, la priorità numero uno è la crescita economica, fare ripartire l'occupazione, dare sollievo soprattutto alle famiglie più in difficoltà e fare in modo che questo paese possa raggiungere una crescita di due punti percentuali di PIL che è quanto è il nostro obiettivo per sostenere e consolidare un ritmo di economia accettabile e sufficiente. Va detto che noi abbiamo cercato di fermare un crawl e ci siamo riusciti di questa crisi che nasce nel 2007 in America e che si è propagata e che ha ammalato l'economia dell'intero occidente, credo che le risposte di politica economica nelle disponibilità dei governi che si sono succeduti per fronteggiare ad una terapia molto dura siano state nelle grandi strategie a quelle corrette, poi è ovvio che il PIL non si fa per decreto perché la politica ha delle responsabilità e dei compiti ma le leve per rispondere a questa crisi non attengono solo alla politica, quello che noi possiamo fare è dare un sostegno alle imprese e alle famiglie prima per uscire come abbiamo fatto tecnicamente da una recessione e oggi per consolidare una ripresa.